Due minuti mancano per il sondaggio, dai dai votate, voglio vedere che aspettative ci avete su di me Ah poi un sacco di voi hanno fatto altri esami, com'è andata? Ricetta della scientifica con il kiwi, che ricetta ti devo votare? Ho spremuto un kiwi, una mela e una piera mi pare Dopo la rifacciamo, no mi sa che oggi mi mangio un mandarino a merenda, ho troppo voglia dei mandarini Sembro tipo incinta, hai visto quando ti vengono le voglie? Non so, incinta Io oggi ho fatto un esame, l'ho passato, grande, 30, grande, 28, grande, no raga sono troppo contenta Vi giuro quando finisce la sessione dovremmo organizzare tipo qualcosa, cioè sarebbe troppo bello Però come, siamo tutte in città diverse Tipo ce nemmo a fare una serata tutte insieme, le secchioni di tiktok Uh l'apparecchio, vedi c'è vero male che c'è stato di voi che mi ricorda delle cose C'è ragione perché ho preanzato e non mi sono messa l'apparecchio, arrivo eh Eccomi, grazie di avermi ricordato dell'apparecchio Allora il sondaggio è finito, ho preso Vediamo se avete azzeccato, sì avete azzeccato, ho preso 28 Fine del sondaggio Grandi, mi conoscete Io sono tornata adesso dall'università, tempo di riprendermi e studio anch'io con te Tanto stiamo qua fino alle 7 quindi ho voglia Io c'ho un'ansia, regà, di questo esame di fisiologia vegetale che giuro Ok, mi è rimasto il dentifricio Perché non organizzi qualcosa con le cari ragazze di Roma e dintorni? Eh lo so però, regà Come faccio? Siamo un boato Cioè, come faccio a organizzare? Dietro c'è scritto un foglio che ho scritto ti amo Sì Mazza che occhio Posa 19, no, mo la cambiamo Che ora iniziamo? Siamo alti 10 minuti? Così iniziamo in mezza precise Ah, è il lunedì devo iniziare la dieta Brava Domani, no, la live no Perché domani vengono delle amiche a casa mia Che dobbiamo finire un progetto per l'università Quindi vengono domani mattina Prendono da me Quindi non so se il pomeriggio riesco a fare Sì, va bene, ok, perfetto Intanto allora scriviamo la pausa Se iniziamo alle 3 e mezza Allora, la pausa sarà alle 16 e 10, giusto? Ali, non ti abbandono che studio pure io per un altro 16 e 10 Ah, li hanno segnalato Eh, regà Chi non mi segue seguitemi Che vuole seguire la live Che la spengo e la riaccendo Così vi arriva la notifica Che mi hanno bloccato la live Molta un po' sparisce sta live Rientrate sull'altra che faccio Eh, chi non Sì, esatto Chi non mi segue seguitemi Se no non va a pare la notifica Che palle però Vi giuro Cioè, mamma mia Si può fare niente su TikTok Ma come vedo? Cioè, mentre fumo No, non rimane Perché a molte persone Me lo scrivono poi su Instagram Che gli si leva Cioè, la bloccano proprio Non gli da più Per visualizzarla Dai, la spengo e la riaccendo Ripenite Yeah